Parco mezzi vetusto e carente, straordinari che arrivano dopo un anno e casolio sotto il livello di guardia. I vigili del fuoco di Rimini se la giocano con Enna. Non sembri un match di football ma la triste realtà o se volete la consapevolezza di essere relegati tra gli ultimi posti nella scala di importanza delle caserme italiane. Enna, città siciliana di 27.000 abitanti, addetta del rappresentante sindacale della CGL, Francesco Fran Calanci, ha un organico maggiore di quello riminese. Realtà che supera le 145.000 unità, quello degli organici è un problema vecchio, tanto quanto i mezzi che si trovano ad utilizzare i pompieri di via Varisco. A Rimini ogni giorno operano 13 persone a turno, due o tre delle quali sono discontinue, numeri a cui vanno aggiunte le 5 unità a turno di Nova Feltre Cattolica, più un discontinuo ciascuno. La carenza di personale dunque è evidente, ma l'organico non è l'unico problema dei vigili del fuoco. Pensate che durante la bufera di San Martino abbiamo dovuto richiedere l'intervento dell'autoscala da Reggio Emilia, Imola e Forlì, sottolinea Fran Calanci, perché le nostre due non erano sufficienti. I mezzi sono pochi e vecchi, in centrale come dei distaccamenti, APS, autobotti e autoscale che spesso corrono il rischio di marciare a singhiozzo a causa dei rubinetti, legacy, gasolio, sempre meno floridi. Ultimo problema è il pagamento degli straordinari che arriva dopo un anno e il blocco degli stipendi ormai fermi al 2009. Una situazione da tempo al limite della sopportazione che finisce inevitabilmente con il ripercuotersi sulla qualità del servizio in un territorio che soprattutto d'estate assume contorni da città metropolitana.